Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale In aumento nella provincia di Pesaro Urbino lavoro nero ed evasione fiscale i dati relativi all'attività della Guardia di Finanza del 2014 Parte da Marotta la campagna elettorale per le regionali del sindaco di Mondavio Federico Talè a Fossombrono invece appuntamento con i candidati alla presidenza della Regione Bianca Zandri, moglie del maestro Enzo Berardi compie cent'anni e il sindaco di Fano Seri le porta le rose a casa La moviola di Fano Campobasso la palla entra in porta ma l'arbitro non lo vede il Fano perde un'occasione d'oro per avvicinarsi alla capolista maceratese Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia benvenuto a questo appuntamento con l'informazione Dunque iniziamo con il bilancio della Guardia di Finanza di Pesaro Urbino bilancio che ha tenuto oggi nella sede del Comando Provinciale Sono 77 le persone denunciate per reati fiscali sono stati sequestrati beni per oltre 5 milioni 400 mila euro scoperti 67 evasori totali e quindi completamente sconosciuti al fisco che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi sono stati individuati in oltre 18 imprenditori che hanno utilizzato 110 lavoratori irregolari di cui 25 extracomunitari e 36 in nero aumentati del 300% rispetto al 2018 nel 2013 questi dati delle operazioni portate a termine lo scorso anno dalla Guardia di Finanza della provincia di Pesaro Urbino attività illustrate dal Comandante Provinciale Antonino Raimondo assieme agli omonimi dei reparti dipendenti il Comandante della stazione di Fano Francesco Mancini quello di Pesaro Marina Giovanditto di Urbino Antonio Dima e dal Tenente Colonnello Vito Caradonna del Nucleo di Polizia Tributaria di Pesaro La nostra mission nell'attività di Polizia Economico Finanziare è quella della tutela della legalità tutela della legalità che quindi si manifesta nelle sue variegate sfaccettature una delle quali è il contrasto dell'evasione di carattere fiscale ma è chiaramente solo la nostra prima mission la seconda è sicuramente quella che riguarda tutto il comparto della spesa pubblica e proprio nel reparto della spesa pubblica sono state denunciate 35 persone che hanno percepito indebitamente contributi per circa 120.000 euro sono stati inoltre deferiti ulteriori 26 soggetti per un danno erariale di oltre 107.000 ma le fiamme gialle pesaresi hanno operato anche a contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in 7 sono stati denunciati sia per peculato che per abuso d'ufficio 16 invece sono le violazioni sull'utilizzo dei carburanti in questo caso la guardia di finanza ha controllato ad esempio se i prezzi indicati nella colonnina erogatrice poi corrispondevano effettivamente a quelli presenti sui cartelloni il mercato dei giochi e delle scommesse invece ha portato alla denuncia di 8 persone un'evasione di tributi di circa 85.500 euro e il sequestro di un immobile non sono mancate poi le banconote false di vari tagli per la maggior parte quelle da 20 euro infine 3.733 sono le merci contraffatte come capi d'abbigliamento e prodotti di elettronica come ripetuto più volte dal comandante Raimondo l'obiettivo del corpo è quello di garantire il rispetto della legalità economica e di ripristinare le condizioni di giustizia e solidarietà tra Stato e cittadini in quale modo i cittadini possono contribuire? Beh, pensiamo una cosa la nostra intera attività è quotidianamente al servizio dei cittadini dei cittadini onesti e delle imprese oneste e virtuose che cercano di rispettare tra le mille difficoltà della crisi economica degli ultimi anni le loro attività economiche e di salvaguardare i propri posti di lavoro i cittadini devono contribuire facendo rispettare loro per primi le regole fiscali e le regole di legalità che riguardano non solo l'aspetto fiscale ma anche chiaramente tutti gli altri settori settori che nel loro complesso garantiscono un'azione di legalità economica che consente a chi è onesto a chi è sano di poter continuare a vivere e poter continuare a progredire in maniera corretta sul mercato La polizia ha posto sotto sequestro un'attività abusiva di autoriparazioni di veicoli in località Pallino di Urbino in un capannone di 100 metri quadrati un pensionato di 69 anni riparava i mezzi senza la necessaria autorizzazione la polstrada all'interno dell'ufficina ha rinvenuto alcuni veicoli sui quali adesso sono in corso accertamenti nei confronti dell'uomo che è stato segnalato anche alla Camera di Commercio di Pesero per l'adozione dei provvedimenti di competenza è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro con il sequestro finalizzato alla confisca di tutti gli strumenti utilizzati per svolgere l'attività illecita Continuano i disagi provocati dal maltempo i disagi in particolare alla viabilità stradale una nostra telespettatrice che risiede a Monte Maggiore al Metauro ci ha segnalato che a causa di una frana via Pigio è ormai chiusa da diverse settimane gli smottamenti hanno invaso la carreggiata e reso impossibile la circolazione delle auto In prefettura Pesero si è tenuta oggi una riunione del gruppo di lavoro per l'integrazione sono stati individuati gli ambiti in cui i migranti potranno svolgere le attività di volontariato e di tipo culturale ed educativo gli obiettivi, si legge in un comunicato sono quelli di superare possibili diffidenze nei confronti dei cittadini stranieri richiedenti asilo da parte delle popolazioni locali e dunque promuovere l'inserimento lavorativo degli ospiti Adesso parliamo delle prossime elezioni di maggio Federico Talè, il sindaco di Mondavio ha presentato ufficialmente la sua candidatura parte la sua campagna elettorale da Marotta Ho deciso di candidarmi di presentare la candidatura qui a Marotta per un semplice motivo perché Marotta penso che sia il cuore propulsore la spinta per tutta la vallata del Cesano Marotta, quindi Mondolfo è la città più importante della vallata del Cesano e quindi Marotta ha anche tutte le infrastrutture che servono alla vallata stessa la ferrovia, l'autostrada il maggior turismo è qui a Marotta e quindi Marotta insieme a tutta la vallata del Cesano mi riferisco a Mondolfo come Borgo più bello d'Italia Mondavio, Borgo più bello d'Italia i bronzi dorati di Pergola ecco, insieme a Marotta facendo una sintesi, una sinergia globale la vallata del Cesano sicuramente avrà un maggior sviluppo quello che vorrei fare io è questo cioè avvicinarmi di più agli amministratori locali cercare di essere più vicino ai sindaci ho fatto, sto facendo il sindaco da due legislature a Mondavio e so quanto i sindaci stanno penando proprio perché non sentono il legame con il consigliere regionale quindi con l'ente regione questa cosa qui vorrei portarla avanti con forza perché è ritornando verso l'amministratore locale con il quale ancora il cittadino ha il rapporto e ha la fiducia perché noi amministratori locali, noi sindaci ha fatto benissimo lo slogan Ceriscioli il sindaco delle Marche è rimasto l'unico step amministrativo che il cittadino ancora si sente vicino che sopporta tutto il resto viene visto come una ruberia come una cosa lontana, come una cosa che non appartiene più al cittadino questo è un peccato quello che vorrei essere invece un punto di riferimento dalla regione per i cittadini, per gli amministratori locali e per le associazioni anche di categoria perché rappresentano degli interessi e gli interessi sono quelli che danno spinta propulsiva all'Italia stessa Gli aspiranti governatori alla regione Marche invece si incontreranno a Fossombrone per parlare in particolare di sanità Il futuro del territorio e degli ospedali di Fossombrone, Caglie e Pergola sarà il tema al centro dell'incontro pubblico con i candidati alla presidenza della regione Marche L'appuntamento è previsto per giovedì 16 aprile alle ore 20.45 al palazzetto dello sport di Fossombrone un modo questo per sensibilizzare il mondo politico all'emergenza dei servizi sanitari Abbiamo una situazione molto difficile in tutta la provincia con 2,7 posti letto per mila abitanti un posto letto in meno rispetto alla media nazionale e regionale e nell'entroterra scontiamo ancora di più questo gap per cui sono notevoli i disagi A dare l'adesione per ora sono stati il candidato del Movimento 5 Stelle Giovanni Maggi Edoardo Mentrassi di Selle, Luca Ceriscioli del PD e Luca Rodolfo Paolini della Lega Nord Mancherebbe quella del presidente uscente Gianmario Spacca Abbiamo predisposto delle domande che le abbiamo già inviate anticipate in maniera tale che siccome l'argomento è abbastanza complesso in maniera che possono prepararsi e dare delle risposte più convincenti ai cittadini Un altro obiettivo dell'incontro sarà quello di unire le forze locali Quest'unione è rappresentata dai sindaci ci sono gli 11 sindaci in trincera alcuni interverranno e uno trarrà anche delle conclusioni per cui abbiamo riservato una parte importante anche a loro poi le associazioni come la nostra, come articolo 32 ONLUS e le altre realtà sul territorio, i comitati, i movimenti eccetera quindi cerchiamo di unire il territorio sia da un punto di vista logistico con la partecipazione di tutti i sindaci sia da un punto di vista delle varie componenti che costituiscono la società E adesso a Senigallia per parlarvi della giornata di commemorazione che era stata prevista per il 3 maggio ad un anno esatto dalla tragica alluvione che ha causato anche delle vittime Perché? Perché la notizia di oggi, la decisione di oggi cioè quella di annullare questa manifestazione non avevamo fatto i conti con i veleni del clima pre-elettorale scrivono i promotori di questa iniziativa E adesso ancora cronaca un incidente è accaduto intorno alle 13 lungo la statale adriatica Gimarra di Fano un uomo, un 57enne di Pesero che era a bordo di uno scooter scarabeo nel superare un autobus in sosta si è scontrato con un altro veicolo proveniente dalla parte opposta Sul luogo dell'incidente sono intervenute una pattuglia della Polizia Municipale il 118 che ha trasportato il Centauro all'ospedale Santa Croce di Fano le sue condizioni non dovrebbero essere gravi Dopo circa un mese l'orologio di piazza 20 settembre torna a segnare anche i minuti nella giornata di ieri infatti gli operai dell'ufficio tecnico del Comune di Fano hanno riparato la lancetta nel quadrante della torre campanaria rivolto verso la piazza la lancetta dei minuti era stata spezzata dalle forti raffiche di vento durante il maltempo che si era abbattuto sulla città nel mese di marzo il costo dei lavori si aggira attorno ai 2.500 euro Il Pesce Azzurro ha inaugurato un nuovo ristorante a Senigallia il quinto self-service aperto il 3 aprile scorso e che grazie a questa nuova apertura ha creato 15 nuovi posti di lavoro Il Pesce Azzurro è sbarcato anche a Senigallia la spiaggia di Velluto ospita il quinto ristorante self-service della catena di ristorazione che ha la casa madre a Fano e che oltre a esportare un format gastronomico basato sul pesce azzurro ricco di Omega 3 crea anche occupazione e sviluppo territoriale dato che ben oltre 15 unità lavorative trovano posto nella nuova sede senigalliese Per la verità Senigallia è stato sempre un nostro sogno pensavamo già dal 2008 poi diciamo per vari motivi non siamo riusciti per cui oggi si avvera quello che era una intenzione di parecchi anni fa perché pensiamo che sia una buona piazza una città vivace, viva, con tante iniziative e anche i senigallesi con tutta la popolazione limitrofa credo che apprezzino molto l'offerta che noi proponiamo testimonianza ne è il fatto che tanti senigallesi anche vicino a Senigallia frequentano molto il nostro ristorante di Fano per cui oggi ci avviciniamo noi a loro e speriamo così di attirare molte più persone di questa zona Per noi questo rapporto con pesce azzurro è importante l'abbiamo cercato negli anni abbiamo cercato una collaborazione con Fano che è una città amica e siamo contenti che una bella esperienza come tutte possono essere esportate allora da oggi pesce azzurro anche a Senigallia e avremo la possibilità per speriamo i tanti avventori della nostra città l'anno scorso abbiamo fatto un milione di presenze e questo ci aiuterà sicuramente a fare meglio E Fano oggi festeggia una nuova centenaria si tratta di Bianca Zandri moglie di Enzo Berardi e madre dello storico Alberto Berardi Bianca ha ricevuto 100 rose rosse e un mazzo di fiori dal sindaco di Fano Massimo Seri, vediamo Ha confessato di non avere segreti per la sua longevità beve latte e caffè al mattino acqua e vino durante i passi e ha sempre mangiato di tutto compie 100 anni proprio oggi Bianca Zandri moglie di Enzo Berardi storico fondatore della musica arabita del Carnevale di Fano e madre del professore Alberto un compleanno davvero speciale per Bianca che è stato festeggiato con i parenti con il sindaco Massimo Seri e l'assessore servizi sociali Marina Barnesi la centenaria è stata omaggiata dal primo cittadino con un mazzo di rose gialle ma in un angolo del suo salotto non si possono non notarne ben 100 rosse chi le ha regalato queste rose? è la famiglia Berardi parenti di mio marito che oggi sono qua a festeggiare no abbiamo fatto ieri domenica allora qui c'è stata 50 persone non lo so abbiamo messo fuori questo che non aveva mai visto una roba così e tutta la gente si fermava quanto leggevo? 8, 90, 100 allora anche se conoscevi e volevano sapere dove era la festeggiata io non volendo sono andata nella porta signora chi sarà? gli ho detto io cosa? americani, non capiva niente la signora Bianca è giunta a questa veneranda età mantenendo una grande lucidità mentale ha sempre abitato in via Giordano Bruno a Fano e ha sempre svolto una vita laboriosa in Filanda e dedicata alla famiglia uno dei suoi ricordi più vivi quando il 27 ottobre del 1944 ha visto arrivare l'esercito alleato erano gli angloamericani che venivano a liberare la città chi ha visto? chi ha incontrato? il figlio di Manuelli il dottor Manuelli mi ha chiamato signora Bianca lo sa che sono arrivati i polacchi? io tutto incantato ha detto sì sono i passeggi li ho portati da bere e aveva il fiasco nelle mani sono affacciati perché non si pudeva prima le finestre niente e diciamo c'è calcò c'è calcò e abbiamo visto che ci venivano tutti all'ospedale da manchè all'ospedale siamo vicini siamo arrivati già erano tutti a sedere in quelle panchine tutta la gente intorno e loro ci siamo messi anche noi lì vicino a battere le mani allora è vero è vero tutti sono eroi strilava la gente sono i polacchi sono bravi sono gli eroi ci hanno salvato mio marito adesso cosa succede anche mio figlio io di cosa succede siamo felici c'è più la guerra un racconto questo a cui il figlio Alberto ha dedicato una rievocazione inserita poi all'interno di un volume a più voci da Bellocchi loro erano ritornati ma avevano avuto anche un bombardamento perché c'era la linea gotica e ci furono bombardamenti terribili e furono feriti e morti e mamma nella sua semplicità contestata peraltro dal marito che capiva tutto lui ha fatto questa frase che ho preferito metterne il titolo perché mi sembrava quella frase finale con cui si chiude perché ogni volta che la racconto io alla fine gli dico sì ho capito ma che cosa cambiava per voi e lei risponde e non avevi più paura te par niente è bellissima è una frase bellissima la pagina degli spettacoli per parlarvi di un musical davvero straordinario Romeo e Giulietta è uno spettacolo che andrà in scena il 30 aprile prossimo all'Adriatica Arena di Pesaro ci rivedremo certo che ci rivedremo e tutti questi dolori saranno materia che noi ci racconto 38 artisti sul palco 35 persone di equip tecnica e di produzione 270 costumi 500.000 spettatori oltre un milione e mezzo di euro per il lancio promozionale questi numeri di Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo lo spettacolo che dopo il debutto all'Arena di Verona nel 2013 e le oltre 200 rappresentazioni in 9 diverse città italiane dal 30 aprile al 3 maggio prossimo farà tappa all'Adriatica Arena di Pesaro la trama del musical più applaudito di sempre è ormai nota due famiglie di Verona i Montecchi e i Capoletti si osteggiano da generazioni dai nemici discende una coppia di amanti che si innamorano al primo sguardo e si giurano amore eterno nell'intimità del balcone di Giulietta poi il tragico suicidio di entrambi li unirà per sempre e porrà fine al conflitto fra le famiglie Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo con la regia di Giuliano Peparini le musiche di Gerard Presgurvic e i testi in italiano di Vincenzo Incenso è un'opera prodotta da David Zard a lui si deve anche il successo di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante l'Adriatica Arena è uno dei posti che ha ospitato Notre Dame de Paris con successo e spero che il pubblico accorra a vedere questo spettacolo perché garantisco che lo merita non darà possibilità di venirla a vedere più in là perché è troppo costoso da tenere in scena e noi faremo una versione più piccola più tardi ma questa qui nella versione cosiddetta colossal vale la pena venire a vedere adesso lo spettacolo tratto dall'opera di William Shakespeare è stato presentato questa mattina al teatro del liceo musicale Marconi di Pesaro le prevendite sono disponibili online nei punti vendita Ticket One negli uffici dell'Adriatica Arena e nelle filiali di Banca Marche per informazioni invece è possibile contattare lo 0721 400 272 oppure visitare il sito adriaticarena.it presenti oggi in conferenza stampa anche parte del cast tra cui Roberta Faccani alias Lady Montecchi quando sono iniziate le fasi dell'allestimento e come le ha trovate? noi abbiamo iniziato il 21 luglio data memorabile di due stati fa in una scuola vicino la periferia di Roma Saxarubra che era stata proprio adibita scelta da David Zarda che è qui con me per allestire in maniera mastodontica sia la parte della creazione artistica che quella tecnica è veramente una cosa che non avevo mai visto pur venendo dal musical una macchina da guerra come la definisco io a livello proprio internazionale è uno spettacolo che merita di essere visto nel mondo Allora Sergio da Romeo e Giulietta al calcio giocato domenica scorsa allo stadio Mancini dove insomma di emozioni se ne sono viste tante purtroppo una partita stregata dove la palla non è voluta entrare nella porta degli avversari anche se c'è da dire in realtà la palla è entrata vediamo allora la Moviola con tutti gli episodi un po' dubbi Buonasera Buonasera a tutti intanto seguiamo subito il primo episodio con il falonetto di Fusaro su Sivilla dopo solo i 5 minuti vedete il numero 3 che è Fusaro che va proprio a colpire con la gamba destra il piede sinistro di Sivilla è rigore netto soltanto per il direttore di gara l'opaco Gualtieri di Asti non è stato così ma seguiamo ora poi gli altri episodi incriminati e ne abbiamo ben 4 il lancio di Sivilla verso Gucci lanciato a rete qui c'è la chiara opportunità da gol è sempre Fusaro sempre lui il numero 3 che va ad affossare Nicola Gucci che a quel punto era solo davanti alla portiera con la chiara possibilità di fare male quindi di fare gol quindi è un episodio un marco direi inequivocabile soltanto Gualtieri di Asti che poi proseguirà nello show non lo ha visto andiamo avanti con le recriminazioni all'ultimo minuto calcio di punizione per l'Alma Borrelli mette lo russo che mette nel mezzo la difesa libera Lunardini poi cicca la palla e ovviamente sta per sferrare il tiro in porta il direttore di gara che fa fischia la fine del primo tempo quindi davvero del clamoroso andando ad invalidare una potenziale palla-golla per il fano perché è davvero incredibile guardate c'è Lunardini che si porta la palla sul sinistro e sta per sferrare ma l'arbitro inspiegabilmente fischia la fine del primo tempo andiamo sul secondo tempo nel secondo tempo c'è l'episodio chiave il gol non gol vedete Borrelli si porta la palla sul suo piede il tiro e come potete vedere nel rallenti c'è Minadeo che respinge ma la palla è entrata assolutamente dentro tutta la vita quindi anche qui come con la maceratese come avevamo noi di Fano TV evidenziato questi torti l'arma viene defraudata di un calcio di rigore quello su Sivilla di una espulsione netta quella di Fusaro e di un gol quello di Borrelli nel secondo tempo che era gol quindi davvero un'arma che ora scivola a meno sé ma è un'arma che ha davvero ben donde di recriminare campionato del Fano che non è finito perché mancano ancora quattro giornate domenica l'arma sarà attesa al Bonolis di Teramo campo sintetico contro il San Nicolò e poi il 26 di aprile addirittura il derby al Mancini con la Vis bene grazie Sergio Catalani il telegiornale si chiude qui grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona serata grazie a tutti